Dopo le polemiche dello scorso anno, anche stavolta non ci saranno i simboli a sfilare, ma la via Crucis in via delle caserme con le stazioni della Passione scandite dai numeri romani. Insomma, a Pescara la processione del Venerdì Santo si terrà solo a Porta Nuova e nei luoghi della Movida. Il direttore dell'ufficio liturgico, Don Emilio Lonzi, anticipa come sarà la processione del Venerdì Santo a Pescara. che innanzitutto sarà coinvolta solo, come detto, alla zona di Porta Nuova. Dopo le polemiche dello scorso anno di molti pescaresi spiazzati dalle mancanze delle statue simbolo e della canonica processione che dal centro conduceva dall'altra parte della città, si replica. Saranno infatti solo due le statue che usciranno dalla cattedrale di San Cetteo, il Cristo morto e la Madonna con l'arcivescovo e chi vorrà unirsi a corteo e il tema di quest'anno, forte la guerra. Quest'anno la processione uscirà dalla cattedrale di San Cetteo, mentre l'anno scorso era uscita come da tradizione antica dal Santuario della Misericordia, l'ex chiesa del Sacro Cuore, Sacratissimo Cuore di Gesù. L'anno scorso la strada principale del centro, Corso Umberto fino a Piazza Salotto, quest'anno invece sarà diversa. usciremo dalla cattedrale cantando e pregando, arriveremo a Piazza Garibaldi, un momento di riflessione, poi Corso Mantonè, Piazza Unione e lì inizierà proprio la via Crucis su via delle Caserme, fino in fondo alla strada. Quindi percorreremo questa strada, non è molto lunga, ma sicuramente avremo queste tappe che ci inviteranno alla riflessione. Ai pescaresi che sono un po' perplessi, forse scettici per questa scelta, solo Porta Nuova e tra l'altro via Crucis nei luoghi della Movida. Don Emilio, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che Gesù, quando è venuto sulla terra, non ha escluso nessun luogo. Andava al Tempio, come andava nella casa dei peccatori, come andava per le strade, come andava nelle sinagoge. Forse anche Gesù ha privilegiato tante strade e tanti luoghi, diciamo, forse non vi consuetudini, non dediti alla spiritualità o alla preghiera. Ma noi penso che la cosa più bella è proprio questa, portare del sacro lì dove sembrerebbe non ci sia il sacro. Ma in realtà ci sono tanti giovani che vivono in quei luoghi, in questi luoghi cosiddetti della Movida. Ma luoghi che noi vogliamo riconsacrare anche con la preghiera, con la nostra presenza. Non è che sono luoghi solo di perdizione, sono anche luoghi in cui i giovani si rilassano. Sì, è vero che ogni volta ci sono quegli episodi di violenza, ma diciamo di fronte a tutte le volte che si frequentano questi luoghi, non mi sembra che siano poi così negativi. Anzi, forse è bello che ci sia una presenza di preghiera, una presenza della Chiesa, nei luoghi dove forse qualcuno della Chiesa non ha tanto interesse.